Estremamente positivo, perché comunque un parterre di illustratori che sono stati in grado di farci capire la possibilità che la Regione e lo Stato mette a disposizione dell'agricoltura, sono veramente felice di questa cosa e speriamo che la nostra agricoltura benefici al 100%, perché ho sentito dei numeri che noi comunque stiamo perdendo. Ho sentito anche un'attenzione particolare all'ambiente, alla quale vorrei dare una risposta perché in questa zona abbiamo gli ispettori ambientali, quindi se trovate qualcosa di non consono lungo le strade non fate finta di niente, per favore, aiutateci ad aiutare l'ambiente, perché se noi risaliamo poi possiamo elevare delle sanzioni e vedete che la cosa va avanti. Ma il consultivo di questa giornata è stato estremamente interessante e anche partecipato da giovani ragazzi, imprenditori, perché il futuro è lì.